Nel gergo si potrebbe definire una pesca a strascico, quella che ha portato la compagnia carabinieri di Soverato, con l'ottavo nucleo elicottero di Vibo Valencia e lo scadrone carabinieri eliportato Cacciatori Calabria, ad individuare una piantagione formata da 26 piante di marijuana con altezza variabile tra il metro e mezzo e due metri e mezzo, in una zona remota del comune di Isca sullo Ionio. Il ritrovamento è avvenuto all'interno di una più vasta operazione portata avanti dai militari dell'arma che mirava a scardinare le attività illegali legate al traffico di sostanze stupefacenti nella regione. I carabinieri durante una perlustrazione dall'alto hanno sorpreso e quindi arrestato un 37enne residente a Davoli in fragranza di leato, nell'atto di coltivare la piantagione che era suddivisa e organizzata in tre diverse aree, ciascuna delle quali era dotata di un sistema dedicato per l'irrigazione e la concimazione. Il 37enne è stato messo in un primo momento a domiciliare e quindi è stato condannato per direttissima a una pena di 12 mesi di reclusione accompagnata da una multa di 4.000 euro.